E questa presenza di qualche locale nella quale noi della distrettuale antimafia di Bari vedremo qui a Foggia per offrire la nostra presenza più vicina in questo territorio è veramente un altro passo verso quello che sarà la sconfitta della comunità organizzata a Foggia. In realtà non c'è un aumento di unità, noi saremo presenti a turno, i sostituti e chi sarà necessario che già vengono qui per le udienze, per gli atti di investigazione eccetera avranno un luogo di presenza proprio fisica. L'idea si è fatta e come legge i recenti pentimenti che ci sono stati tra il Gargano, Foggia e le organizzazioni criminali locali? Vuol dire che si stanno raggiungendo i risultati, uno collabora quando sa che non ha più spazio, più possibilità di poter continuare a fare la vita di prima. Le collaborazioni apriranno poi altre collaborazioni, così si inizia la sconfitta e la comunità organizzata.